buonasera auguri di una buona pasqua perché l'aviate tutti quanti allegria anche se chiaramente non si potranno fare delle grandi feste però diciamo è sempre un simbolo che riguarda tutti quanti noi anche proprio a livello mondiale che rappresenta la pace e diciamo la gioia di trovare la felicità di tutti quanti in un giorno che accomuna tutti con lo stesso ideale di essere felici e di sentirci uniti ci sentiremo ancora più uniti in questo momento in cui molte persone soffrono che sono veramente in una situazione molto disagiata tutti quanti le persone che possono farlo invito caldamente di far qualcosa di cercare di collaborare con le persone che dopo questo periodo di crisi di coronavirus sicuramente ci sarà molto bisogno di solidarietà e di assistenza per chi non può farcela sia a livello economico sia a livello sociale ci vorrà molto molta positività molto amore di fratellanza proprio questo senso di unione di sentirci tutti quanti in una stessa famiglia e questo ci può dare veramente gioia e fare in modo che le situazioni anche le più spiacevoli possono essere superate e si possa costruire un karma qui parliamo di karma un karma più felice per tutti bene in questa giornata un po particolare di festa possiamo proprio cercare di avere proprio tutti i pensieri più positivi che possiamo realizzare con noi stessi con gli altri nella meditazione oltre che avere varie varie esercizi che noi possiamo svolgere per allenare la mente essere più serena più semplice diretta con noi stessi più più consapevole possiamo anche proprio fare un po di analisi su quello che è il nostro vissuto su quelle che sono le situazioni che stiamo vivendo su come conduciamo le vite rapporti con le persone tutto questo si può fare quando si è più fermi adesso siamo in un momento in cui siamo obbligati a stare fermi stare a casa non uscire e quindi in questa situazione possiamo approfittarne proprio per creare dell'ordine interno dell'ordine esterno anch'io personalmente sto riordinando un armadio alla volta con tutte le cose e sono cose che spesso non si fanno perché si sia molte cose da fare e allora invece di disperare cioè come faccio non posso fare questo non posso fare quello cerchiamo di utilizzare per il meglio la situazione che stiamo vivendo quindi tranquillamente vediamo le opportunità che ci offre la situazione del momento presente noi cerchiamo qualcosa che non c'è ma quello che c'è in questo momento possiamo fare certe cose e le facciamo tranquillamente quando non si possono fare certe cose si capisce anche effettivamente se si possono fare delle cose o no è inutile insistere sbattere la testa contro il muro lo voglio lo voglio lo voglio no non è e me più salobre cercare di andare dietro l'onda della situazione e fare in modo di che la situazione ci venga a favore non contro una lotta una guerra che le guerre siamo già con per la pace quindi combattere con con se stessi e con le circostanze non è proprio non ha senso perché comunque perché dobbiamo creare ancora più conflitto di quello che abbiamo vissuto fino adesso quindi quello che consiglio perché non perché ognuno ha la possibilità di scegliere come meglio fare ma è più è meglio vivere più serenamente più felicemente possibile in modo tale di avere la vita più più sobria più più snella più più ariosa diciamo meno con meno intoppi meno difficoltà meno discussioni con se stessi e con gli altri quindi man mano si si ci si modella sulle circostanze e andiamo tranquillamente come un fiume che scorre meditare proprio su un fiume che scorre aiuta molto questo specialmente se non abbiamo delle idee fisse se siamo anche un po attaccati alle cose che vogliamo a tutti i costi e quindi creare una mediazione con noi stessi visualizzando anche delle cose che ci aiutano a sciogliere questi nodi sicuramente molto positivo quindi oggi faremo una meditazione sull'acqua che scorre ma che meditazione strana questa eppure può essere una una meditazione molto molto efficace perché chiaramente noi visualizzeremo un fiume che scorre faremo un esercizio in pratica che chiaramente potremmo anche utilizzarlo quando siamo così oppressi che a tutti i costi abbiamo delle cose che ci spingono dentro ma non possiamo farle le vogliamo fare e allora abbiamo questa contrazione che continua a discutere dentro di noi e visualizziamo ci mettiamo tranquilli con questa bella visualizzazione su un fiume che scorre poi chiaramente possiamo anche andare in un posto molto bello pure ricordarcelo chiaro che se poi troviamo un posto che quando potremo andarci chiaramente lo svolgeremo anche in loco questo ci potrà essere come supporto per farlo poi a casa per visualizzare questo fiume che scorre chiaramente il fiume che scorre deve essere dell'acqua limpida che vedete che spesso ci sono dei ruscelletti con le piccole cascatine ci sono tanti posti carini anche qua in provincia di Cuno il Tanaro con delle cose molto carine con anche degli animali acquatici e quindi ci sono anche delle persone che fanno anche proprio snow boat vanno con la barchetta fare così con ambulazioni del fiume perché è abbastanza lungo fra l'altro con tutti questi animaletti perché così in provincia di Cuno rispettano molto l'ambiente e la fauna allora ci sono tutti questi animali naturali questi uccelli e piante acquatiche allora primavera è stata è anche simpatico fare questi tipi di sport anche proprio dietro casa ecco se chiaramente il posto è pulito e gli animali e la fauna l'ambiente rimane molto piacevole comunque da vedere da 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 viverci ecco di per rilassarsi e possiamo benissimo fare la nostra meditazione su la mente che scorre immaginiamo di essere come questo fiume che scorre e lo immaginiamo sempre facciamo questa meditazione quando proprio ne abbiamo bisogno nel senso che ci mettiamo tranquillamente a osservarlo prima chiaramente con tutti gli esercizi che facciamo di preparazione prima prendiamo una posizione comoda la spina dorsale dritta poi respiriamo profondamente lasciando cadere le tensioni poi ci mettiamo tranquilli e immaginiamo questo fiume che scorre adesso iniziamo la meditazione in modo che facciamo l'esperienza in diretta respiriamo profondamente lasciamo cadere le tensioni con la espirazione gli occhi sono chiusi lo sguardo fermo la tensione è rivolta al respiro e quindi Sul nostro capo c'è il Guru Buddha seduto su un loto e un trono dorato, tempestato di gioielli, di pietre preziose, tutto intorno c'è un paradiso meraviglioso, fatto di fiori, di montagne nevate, di fiumi che scorrono tranquillamente, il clima è molto dolce, intorno a noi ci sono tutti gli esseri senzienti. Di fronte a noi ci sono i nemici, alla nostra destra c'è il nostro padre, alla nostra sinistra c'è la nostra madre. Poi tutto intorno a noi, gli amici, le persone che conoscono, poi allargando sempre in più la visione, tutti gli esseri senzienti che abitano l'universo. Preghiamo Guru Buddha affinché possa concederci la sua energia ispiratrice affinché possiamo eliminare le cause delle nostre sofferenze samsariche, noi e di tutti gli esseri senzienti. Prendiamo rifugio in Guru Buddha, nel Dharma, nell'insegnamento, nel Sangha, nei preziosi maestri e amici spirituali. Namo Guru Bien, Namo Buddhaya, Namo Darmaya, Namo Sangha, Namo Guru Bien, Namo Buddhaya, Namo Darmaya, Namo Sangha. Namo Gurubhya, Namo Buddhaya, Namo Darmaya, Namo Sanghaya, Namo Trerathnaya. Ora immaginiamo che tutti gli esseri senzienti, che vogliono essere felici come noi, avranno il beneficio dall'energia ispiratrice di Gurubhya. Immaginiamo che dal suo cuore c'è un fiume fluente di benedizioni. Questo fiume, immaginiamo come l'acqua scorre in modo infinito e ristora tutti gli esseri senzienti, che porta via tutte le negatività, tutti i problemi, tutte le malattie. Questo fiume, quest'acqua che scorre, la immaginiamo limpida e fresca, con una sensazione di guarigione, toccando tutti gli esseri senzienti. Tocca gli esseri senzienti, li guarisce, li rende felici. Il tocco di quest'acqua crea grande felicità. e beatitudine. Immaginiamo più questo fiume, che scorre ininterrotto. Mentre scorre questo fiume, di nettere infinito dal suo cuore prezioso, tutti gli esseri senzienti vengono completamente liberati dalle loro sofferenze. Questo fiume ininterrotto di beatitudine, di nettere, di ambrosia, che guarisce qualsiasi male, qualsiasi sofferenza, prende la forma di un suono, il suono del mantra, del cuore di Guru Buddha. Om Muli Muli Maha Muli Sakyamunye Soha. Om Muli Muli Maha Muli Sakyamunye Soha. Om Muli 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 Maha Muli Sakyamunye Soha. Om Muli Muli Maha Muli Maha Muli Sakyamunye Soha. Om Muli Maha 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 tutti gli esseri sentienti ora sono soddisfatti e felici chi voleva un figlio ha avuto un figlio chi voleva una casa ha avuto una casa chi voleva del denaro lo ha avuto chi voleva avere felicità con qualcuno l'ha ottenuto e anche ottenuto i risultati ultimi delle felicità della stato l'illuminazione lo stato di completa libertà la samsara meditiamo su questo stato di felicità ci concentriamo come se fossimo già dei buddha rimaniamo in questo stato di gioia profonda grazie grazie bene ora dedichiamo i meriti di aver fatto questa meditazione insieme affinché possa veramente essere la causa per realizzare l'illuminazione grazie 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 vi ringrazio della vostra attenzione e arrivederci al prossimo incontro ciao da Maria Rosa Bersenetti